La Cf Pistoiese 2016 Il giorno mister Biagiotti è costretto a rinunciare ancora Bianchi e Pucci ma recupera Bucciantini e Carradori oltre a Vettori che dopo un lunghissimo stop e qualche apparizione ritrova il posto da titolare. Biagioni sostituisce Bianchi invece in fase offensiva. La partita non avrebbe storia per il punteggio che rispecchia assolutamente i valori espressi sul campo dalle due squadre. Innanzitutto va celebrata la prova maiuscola di Elisa Menchetti che oltre allo straordinario bottino di quattro reti è apparsa in alcuni frangenti devastante. La Capitana Arancione apre le segnature al venticinquesimo trasformando un rigore dalle stesse conquistato. La Pistoiese continua ad attaccare mentre non corre alcun rischio nella solidissima difesa in cui Vettori, Carradori, Pini e Tamburini non sbagliano praticamente nulla. Prima dell'intervallo ancora Menchetti imbeccata da Nesci segna il raddoppio con un'azione travolgente. Il pallino resta in mano alle arancioni anche se l'avversario in maglia nera non mollano e cercano in ogni modo di riaprire la gara. A centrocampo si distingue Bucciantini e la lucida regia di Alice Bonacchi. A dieci minuti dal termine Menchetti segna altri due gol, il primo all'ottantunesimo e il secondo all'ottantatresimo che decretano il risultato finale. Nel finale di gara si consuma il dramma di Elena Tamburini, ottima giocatrice proveniente dalla Florenzia in serie B. Cade male, si procura una brutta distorsione al ginocchio e si teme un lungo stop dopo solo quattro gare disputate con la maglia della Pistoiese che si riunisce attorno a lei in un grandissimo abbraccio. Da un dramma sportivo ad una bella storia, gli ultimi scampoli di gara vedono anche il debutto di Joy, la ragazza nigeriana richiedente asilo con il sogno del pallone. Il suo è un esordio pieno di positività, entra in campo senza tradire le emozioni, giocando bene tutti i palloni che passano delle sue parti per la soddisfazione di mister Biagiotti. Da Pistoia, Antonello Caruso.